Vi piacerebbe fare un viaggio on the road ma senza guidare? Immaginatevi, un giorno siete sotto la Torre Eiffel a Parigi, il giorno dopo in bicicletta per Amsterdam e poi su fino a Oslo oppure un giorno al Parco Güell a Barcellona, il giorno dopo allo zoo di Berlino e poi per finire a Budapest C'è un modo con cui potreste farlo? Il tutto con un unico biglietto, un unico pass valido per viaggiare sui treni di tutta Europa Poi, se avete 18 anni, potrete farlo anche gratis Volete sapere come? Scopriamolo in questa puntata dopo la sigla Stiamo parlando del progetto Interrail che consiste in un biglietto ferroviario con cui è possibile viaggiare in tutti i paesi europei per un determinato periodo che va dai 10 ai 30 giorni Questo biglietto fu introdotto nel 1971, ai tempi non bisognava avere più di 21 anni e si poteva viaggiare soltanto in 21 paesi Cioè Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Ovest, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria Negli anni questo progetto si è sviluppato È stato esteso dai 21 fino ai 23 anni, poi fino ai 26 e ora è accessibile a chiunque purché sia residente in uno dei paesi che partecipano alla convenzione Infatti anche il numero dei paesi è aumentato Soprattutto dopo la dissoluzione dell'URSS nel 1991 E si è passati dai 21 iniziali ai 31 attuali Anche se dal 2020 il Regno Unito uscirà dal progetto Interrail Se vi state chiedendo se ciò ha a che fare con la Brexit Purtroppo no, è una loro decisione della compagnia delle ferrovie britanniche di uscire dall'Interrail A prescindere dalla Brexit Oltre ai treni sono state introdotte anche alcune tratte nautiche E per i minori di 12 anni il biglietto è gratuito Si sono accompagnati da un adulto Esistono due tipologie di biglietti Quelli che valgono per un solo paese Quindi si può viaggiare liberamente all'interno di un unico stato O i PAS cosiddetti global Che permettono appunto di viaggiare per tutti i paesi aderenti all'iniziativa Tra i 10 e i 30 giorni Come dicevamo all'inizio Se avete 18 anni potete fare questo viaggio con i vostri amici gratis Come? Grazie al progetto Discover EU Che è un progetto finanziato dalla Commissione Europea Che ogni anno mette a disposizione dei biglietti interrail gratuiti Per i 18 anni L'unico requisito infatti è quello di essere cittadini dell'Unione Europea E di avere 18 anni Non almeno 18 anni Proprio 18 anni E poi chiunque può candidarsi Inoltre se si hanno delle disabilità o dei problemi di salute Che potrebbero rendere difficile partecipare a questo viaggio Basta segnalarlo E l'Unione Europea ha anche un progetto per permettere a tutti Ma davvero tutti Di partecipare Ma non preoccupatevi Non dovete andare da soli Si può viaggiare anche con gli amici Infatti ci si può candidare da 1 a 4 partecipanti Basta andare sul portale dei giovani dell'Unione Europea È un progetto che è stato lanciato nel 2018 Con un budget di 12 milioni E tra 2018 e 2019 Sono stati distribuiti più di 50.000 pass Questo progetto è stato riproposto anche nel 2019 Con un aumento di budget fino a 20 milioni Sono disponibili 20.000 posti E se volete candidarvi Avete tempo fino al 28 novembre di quest'anno Se vi interessa vi lasciamo il link in descrizione Non perdete tempo Anche perché abbiamo detto che 50.000 sono gli studenti che hanno viaggiato per l'Europa Ma 300.000 erano le richieste arrivate E tra queste 300.000 l'Italia è quella che rappresenta il gruppo maggiore Con 50.000 richieste Tornando al progetto dell'Interrail È stato un progetto lanciato nel 1971 Dall'Unione Internazionale delle Ferrovie Per celebrare il proprio cinquantesimo anniversario Ma siccome nel solo primo anno di messa in vendita I biglietti dell'Interrail Vendette più di 100.000 biglietti Si decise di renderla un'offerta permanente Per sempre E infatti continua tuttora E ogni anno tra i 250.000 e i 300.000 passeggeri Viaggiano tra 31 paesi e più di 250.000 km di ferrovie E di questi l'80% sono giovani Se pensate che possa interessarvi questo viaggio E volete lasciarvi ispirare da possibili itinerari Se visitate il sito dell'Interrail trovate alcuni spunti Ad esempio ci sono suggerimenti su come visitare al meglio una città in sole 24 ore L'Interrail per tutti ma soprattutto per i giovani Offre la possibilità di sperimentare sulla propria pelle La libertà di spostamento garantita in Europa E di conoscere le diverse culture che abitano il nostro continente Visitando le piccole e grandi città Sviluppando connessioni e facendo incontri con cittadini di altri paesi Residenti o magari loro stessi in viaggio Perché infatti il tipico viaggiatore dell'Interrail È ormai riconoscibile dall'iconico backpack Cioè quegli zaini megagalattici dove ci deve stare tutto per viaggiare per 30 giorni Se provate a parlare con qualcuno che ha sperimentato in prima persona L'esperienza dell'Interrail o di un viaggio Erasmus O comunque un viaggio in giro per l'Unione Europea Vi racconterà di quanto sia stato importante per sviluppare connessioni E incontrare nuove persone e nuove culture E magari passare da sentirsi europeo in teoria A sentirsi europeo per esperienza Allora cosa aspettate? Siete pronti a partire? Qual è la vostra prossima meta o la meta che sognate? Questa puntata finisce qui Ricordatevi che la trovate anche in podcast su Spotify Seguiteci su tutti i social In particolare su Instagram e su TikTok Visitate cliprolls.it E noi ci vediamo alla prossima puntata O nel prossimo viaggio Ciao E noi ci vediamo alla prossima puntata